Spree Editori è uno dei primi gruppi editoriali italiani per volumi di vendita e fatturato. Se siamo entrati nel mondo dei droni vuol dire che l'interesse è grosso, abbiamo visto un buon movimento. Abbiamo cominciato pubblicando una guida e in questi giorni in edicola è il primo numero del nostro bimestrale Droni Magazine. È la prima volta che veniamo a Roma, è una delle prime fiere a cui ci capita di partecipare. Sembra che ci sia un'ottima fluenza, siamo contenti, stiamo facendo molti abbonamenti e tutto fa presagire buono.